Il gioco sul caldo Il gioco sul caldo Il gioco Il gioco sul caldo Il gioco sul caldo Noi cerchiamo di rilassarsi in tutte le maniere possibili Che sia la Playstation, che sia dei giochi sul telefonino Insomma, cerchiamo di trovare la maniera di stare insieme il più felicemente possibile Proveremo a capire come si gioca a ritiro al best 11 board game Una buonissima idea per me, soprattutto che sono un ragazzo, un giovane amante di questi giochi Comunque è una cosa che ti fa sempre trattenere Non stare sempre con il cellulare A volte quando stai da solo a casa non sai che fare C'è questo gioco che è una cosa molto bella C'è tanta gente qui sempre a dare una mano a noi giocatori Comunque per sognare insieme dobbiamo andare tutti insieme dalla stessa mano Quindi per noi è molto molto importante Non c'è da aggiungere niente su questi sifosi Perché ogni domenica stanno sempre allo stadio a dare una mano Quindi per noi è sempre molto importante Visto che ultimamente e comunque ormai i social e le playstation hanno preso il sopravvento E comunque ho tanti compagni che giocano a playstation Adesso iniziano a capire il gioco coinvolgerò qualche compagno per poter giocare in ritiro E passare meglio il tempo I tifosi danno una gran spinta Avevo già notato quando ho giocato ad avversario Adesso che sto dalla loro parte la sento ancora di più Soprattutto nel derby che è stata per me Anche se non ho giocato è una cosa emozionantissima Loro non ci fanno mai mancare la fette Oggi noi siamo qui per loro